Ieri sera si è conclusa la Serie A 2022-2023, o meglio, si è conclusa la regular season della Serie A 2022-2023, visto che domenica prossima si giocherà lo spareggio per la salvezza tra Spezia e Dallas Verona. Questo campionato è stato dominato dal Napoli, che l'ha vinto matematicamente ormai da più di un mese. Al secondo, terzo e quarto posto invece sono arrivate Lazio, Inter e Milan, che quindi, assieme ai partenopei, giocheranno la prossima Champions. Al quinto posto c'è arrivata l'Atalanta, al sesto la Roma e al settimo la Juve, che in teoria giocherà la qualificazione alla prossima Conference League. Dico in teoria perché, come sapete, c'è ancora aperta la questione con la UEFA. Diverse fonti dicono che la Juve rischia seriamente la squalifica da tutte le coppe europee, ma alcune di queste fonti sono le stesse che dicevano che la Juve rischiava la Serie B, quindi vedremo un po' cosa succederà. In ogni caso, i bianconeri sul campo sarebbero arrivati terzi, ma arrivano settimi per via dei dieci punti di penalizzazione. All'ottavo posto c'è arrivata la Fiorentina, al nono il Bologna e così via, fino ad arrivare alle due squadre già retrocesse. La Samp, che fortunatamente giocherà la Serie B, visto che è stata acquistata dalla cordata con a capo Radrizzani e Manfredi. Quindi la Cremonese, che con Ballardini ha migliorato i propri risultati, ma era troppo indietro per fare una rimonta clamorosa. A noi però ce ne frega ben poco di chi ha vinto, di chi ha perso, di chi andrà in Europa e di chi non ci andrà, di chi ha retrocesso, di chi è salvato. Noi non seguiamo questo campionato per sapere queste cose. Noi seguiamo la Serie A solo per un motivo, per arrivare preparati a fine stagione e poter finalmente fare la Top 11. Qui con me c'è colui che il pubblico ha stabilito essere più muscoloso di Baschirotto, Charlson Vakpa. Ciao Charlie! Ciao Gal, ciao a tutti. Ciao anche a Saponara, che evidentemente ci ascolta e ha voluto flexare pure lui, dopo il bel gol al suo suono. E poi qui con noi c'è Marco Lai, autore dell'Ultimo Uomo, della newsletter Ball Don't Lie con Lai, scritto LAI come suo cognome. Tifoso del Cagliari, su cui non dico niente perché non voglio assolutamente gufare. E poi tifoso di Los Angeles Lakers, su cui invece ho gufato. E cazzo se ho gufato bene. Ciao Marco! Ciao Gab, ciao Charlie, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. La top 11 è un gioco che ci diverte molto e insomma il cui obiettivo è parlare dei giocatori che hanno fatto bene durante questo campionato. e per forza di cose dimenticheremo di citare qualcuno, quindi non arrabbiatevi. La top 11 tiene conto del rendimento dei singoli giocatori e non delle squadre in cui giocano. Si tiene conto solo delle prestazioni in Serie A e non di quelle nelle altre competizioni. I giocatori inseribili devono avere giocato almeno la metà dei minuti totali, però non c'è stata nessuna esclusione clamorosa priva di questa regola, dato che giocatori come Dybala, Mario Rui, Berardi e Lukman di poco, ma rientrano tra i selezionabili perché appunto hanno giocato un pochino più della metà dei minuti totali. Le formazioni devono avere un senso, non è il fantacalcio classico dove si vedono 3-4-3 con Cavarazchelia a tutta fascia destra, insomma le tre prime punte, magari Lautaro, Zimane e che cazzo ne so Vlaovic. Ecco, devono essere formazioni che bene o male in campo ci possono stare, poi ovvio è difficile che siano perfette, però devono avere un minimo di senso. Secondo me ci sono due giocatori che sono una lock, cioè che devono assolutamente rientrare nella top 11 di chiunque, su questi quindi vi chiederò se siete d'accordo con me e se direte entrambi di sì andremo avanti senza stare troppo a discuterne. Comunque, partiamo dalla base, che modulo avete scelto? Per me è un classico 4-4-2 Sacchiano. Anch'io, anch'io, uguale, mi sembrava quello che mi permetteva di mettere più giocatori meritevoli tutti insieme. Io ho di mio più un 4-2-2-2 molto asimmetrico perché a sinistra c'è un'ala da rampiezza e invece a destra c'è una via di mezzo tra diciamo una mezz'ala e un trequartista. Ho scelto questo modulo per far convivere due giocatori che giocano in posizioni molto simili. Poi ovviamente spiegherò meglio dopo, ma insomma chi si ricorda la puntata della top 11 del giornale di andata probabilmente avrà già capito perché ho fatto questa cosa. Comunque, partiamo dal portiere. Chi avete messo tra i pali? Qua la scelta era dura, c'erano 3-4 meritevoli, ma alla fine ho deciso di premere Provedere che credo abbia fatto il campionato più completo per prestazioni e per contributo alla sua squadra. Insomma, il portiere con i più clean sheet del nostro campionato, un ottimo rendimento a livello di post short xg, un portiere fondamentale nel contributo in possesso, nel gioco con i piedi, nella distribuzione su meglio e lunghe distanze. Si poteva premiare anche Vicario dell'Empoli che è stato clamoroso soprattutto nel giro dell'andata. Poi è stato un po' fuori per una serie di infortuni. C'è Di Gregorio che si è ben distinto quest'anno nel Monza. C'è anche Skorupski che secondo me è stata una piacevole sorpresa nel Bologna dopo un paio di annate in cui la squadra sicuramente a livello difensivo faceva piuttosto pena. Quest'anno si è riscattato con un paio di belle prestazioni. Però appunto credo che il portiere ex Spezia abbia fatto qualcosa in più da questo punto di vista. Anch'io ho optato per Provedel senza tanti dubbi in realtà, a differenza di Charlie. Chiaramente dipende dal forritorio di statistiche che si utilizza, i dati possono essere molto diversi. Secondo opta Provedel e Quinto per Postshot e Speted Goal. Per Stats Bomber invece è molto davanti agli altri. In generale ho voluto premiare lui non tanto per il discorso dei clean sheet che può essere un po' ambiguo perché il clean sheet è un dato collettivo e non tanto individuale. Però in quel dato collettivo c'è tanto del lavoro di Provedel che è stato providenziale molto spesso. E poi nel gioco di Sarri che comunque ha bisogno di un portiere abile con i piedi, ci ricordiamo Reina a Napoli, è stato veramente molto bravo. Secondo me è uno dei migliori del campionato in questo senso. È bravo sia sul corto che sul lungo si deve trovare Milinkovic-Savic per una sponda. Quindi per me Provedel con un certo distacco anche. Sì, col piedi tra l'altro io non mi aspettavo che facesse così bene. Ovviamente in precedenza non giocava tanto in squadre che costruivano dal basso, mentre la Lazio ovviamente lo fa. Però ecco, è stata una piacevole sorpresa da quel punto di vista. Io ero in forte dubbio tra Provedel e Vicario, che credo siano stati i due migliori. Alla fine ho optato per il portiere dell'Empoli che ha avuto degli highlights davvero clamorosi perché ha fatto delle parate, delle giocate assurde. Ovviamente la più clamorosa è la tripla parata all'Olimpico contro la Roma con la parata di piede mentre era in tuffo su Ebram, che è stata una delle parate più assurde dell'anno. Poi ne fece una clamorosa su Belotti invece nella gara di andata in casa. Ricordo anche una partitona contro la Cremonese all'andata in cui forse quella fu la miglior partita della Cremonese di Alvini, però Vicario era insuperabile quindi parò tutto. Insomma è stato un portiere con una reattività impressionante, in grado anche di fare parate difficili quando il tiro degli avversari veniva deviato. Cioè magari c'era un tiro da fuori area, c'era la deviazione, la palla cambiava completamente traiettoria. Lui sembrava andare da un lato, poi invece talmente reattivo da tuffarsi dall'altro e riuscire a fare la parata. Però ecco, credo che loro due siano stati i migliori. Poi ci sono altri nomi come ha fatto Charlie, poi anche Chesni secondo me ha fatto bene, Falcone nel Lecce è stato importante, Meret nel Napoli un po' sottovalutato rispetto ad altri nomi della squadra che ha vinto lo Scudetto, Silvestre nell'Udinese una buona stagione, Di Gregorio nel Monza un'altra sorpresa. Insomma ci sono questi nomi, però ripeto, secondo me Provedale e Vicario sono stati migliori e li vedo più o meno alla pari. Passiamo al terzino destro che avete messo lì. Allora, io adesso non so chi volessi loccare tu, hai detto due nomi. Per me questo qua è uno dei due che dovrebbe essere locato, infatti per me sono tre quelli da locare, però forse anche quattro, vabbè, noi vediamo dopo. In ogni caso io qua sono andato proprio drittissimo su Giovanni Di Lorenzo, capitano della squadra campione d'Italia, perché è una mia grande vittoria Di Lorenzo e sono sul suo carro da tanti anni, anche quando veniva un po' sbeffeggiato e messo in paragoni con i giocatori secondo me molto inferiori dello stesso ruolo. credo che Di Lorenzo rappresente la perfezione e il terzino moderno, nel senso che negli ultimi anni si è sviluppata un po' una tendenza ad avere due terzini, uno magari più stretto, più abile in fase difensiva per le preventive e uno più bravo in ampiezza. Di Lorenzo è questo primo giocatore, ma può essere anche il secondo, cioè anche in fase offensiva è molto abile perché ha un'ottima consapevolezza negli spazi, si sa mettere negli spazi giusti, si sa sovrapporre internamente, è stato un leader per la squadra, quindi per me Giovanni Di Lorenzo senza alcun dubbio. Per me in questo momento tra i primissimi nel ruolo in Europa, sono abbastanza sicuro di questo. Allora ho messo anche Di Lorenzo, non l'ho messo tra le lock perché credo che non abbia fatto una stagione così clamorosa quanto invece è quella che hanno fatto gli altri due, però ecco ci sta assolutamente, è quinto per passaggi progressivi in media ogni 90 minuti, o meglio era quinto prima della giornata di ieri sera, poi non ho più controllato il dato, però è comunque un valore importante e poi oggettivamente non ci sono alternative a lui perché per quanto riguarda i terzini destri e i quinti a tutta fascia destra, questo campionato non ha regalato grandissime stagioni individuali. Sì, Dodò è cresciuto molto nella seconda parte di stagione, però nella prima aveva fatto male. Posch nel Bologna ha fatto una buonissima stagione, ha segnato anche diversi gol, però ecco nessuno è paragonabile a Di Lorenzo. Charlie? Io ho messo Di Lorenzo, non è la mia lock, però sicuramente è uno dei due o tre nomi che ci si possono mettere subito sotto, concordo con quello che avete detto voi, terzino completo, leader emotivo, leader tecnico, sicuramente ha fatto un grosso step anche in termini di incisività e continuità nel giro di ritorno, nella fase in cui di fatto il Napoli ha legittimato e consolidato il vantaggio in testa al campionato e mi sembrava giusto premiare anche la sua evoluzione, la sua crescita. E poi è bella anche la storia di Di Lorenzo e come lui è arrivato al Napoli, perché io mi ricordo quando era stato acquistato dall'Empoli, si era contraddistinto come questo quinto che è più un finalizzatore alla fine che un costruttore, invece abbiamo visto fin dai tempi di Ancelotti un giocatore che poteva e si è dimostrato poi essere molto molto più cerebrale, che sa giocare per vie interne, che sa giocare per vie esterne, che sa segnare. Nel gioco anche molto pareggiato nel Napoli con queste continue rotazioni, secondo me lui si incastra piuttosto bene con due giocatori come Politano, che hanno dei movimenti, hanno delle tracce senza palla o con la palla, che possono permettergli di essere decisivo poi quando arrivano all'ultimo terzo. Poi comunque i terzini sono stati molto molto importanti nel gioco del Napoli, questo evidenza ancora di più il dato che dicevi tu, non solo dei passaggi progressivi, ma anche dei tocchi in media partita, insomma passaggi completati nell'ultimo terzo. Veniamo al centro della difesa, che avete scelto qui? Kim, Smalling, i due della Lazio, cioè Romagnoli e Casale, i due del Lecce, Baschirotto e MTT, i due del Torino, Scurse, buongiorno, qualche altro nome insomma che avete premiato? Tutti bei nomi, Mika avrebbe fatto sicuramente un Titi Baschirotto, però cavoli sui che non c'è, è da direlo. Allora, una scelta per me sicura è Kim, l'altro invece ho voluto premiare Romagnoli, beh hanno giocato entrambi sul centro-sinistra, però Kim è destro, quindi ce lo faremo andare bene. Partito da Kim, sorpresa, grandissima sorpresa, francamente non lo conoscevo, perché non seguivo il campionato turco, ed è riuscito a forse a superare le prestazioni di Koulibaly dell'anno scorso, che era tranquillamente il miglior difensore del centro del campionato. Cioè ha dato una sicurezza, tanto in fase di possesso, che vabbè si era lasciato subito, in realtà comunque che fosse al suo agio con i piedi, ma anche difensivamente, è un giocatore molto, come dire, molto irruento ma in maniera pensante, logica. Cioè è molto bravo a calibrare i suoi interventi, molto bravo in uno contro uno, grande passo, forza fisica, forti di testa, veramente un giocatore completo. Spero rimanga a Napoli, perché potrebbero volerlo tutti dopo questa stagione. Invece per quanto riguarda Romagnoli, ho voluto premiare, diciamo, un giocatore che rappresenta la perfezione, è quello che è il mio motto nel calcio, ossia dipende dal contesto. Perché Romagnoli l'anno scorso ha dimostrato di essere inadeguato nel contesto iperaggressivo dei Milan di Pioli e ha dato invece la dimostrazione di essere il difensore zonista per eccellenza. Cioè in una squadra in cui può difendere di reparto, difendere di letture, non deve essere iperaggressivo, bravo a correre all'indietro perché non ne ha le caratteristiche, sa essere uno dei migliori centrali del campionato. Non penso che sia un giocatore top, 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 però in una difesa zonista che ultimamente va sempre un po' in disluso negli ultimi anni, è uno dei migliori che puoi avere. Quindi volevo premiare Romagnoli. Io ho scelto Kim e Smalling come coppia. Sono stato anche indeciso un po' con Romagnoli. Per un attimo ho pensato pure alla difesa a tre. Nel caso in cui avessi voluto fare una difesa a tre, anche se io non l'avrei messo, secondo me ha qualcosa in meno rispetto agli altri, si poteva pure considerare un giocatore che alla fine ha occupato più slot come Danilo, che credo sia stato uno dei pochi salvabili quest'anno nella Juve in termini di rendimento individuale. sono due giocatori che, insomma, certo sono due destri, però alla fine per come vorrei impostare la mia squadra, due marcatori aggressivi che sanno giocare in zone alte, ma sanno anche difendere in area, ci stanno bene. Smalling comunque da quando in Italia ha fatto un rendimento ormai in crescendo, una garanzia del nostro campionato. Un giocatore che nel docco medio-basso della Roma si esalta alla perfezione. Kim è stato straordinario in termini di impatto, in termini di visibilità. Anche se io, se vi ricordate, Cap sicuramente si ricorda quando abbiamo fatto la top 11 del giro in andato, ma in generale parlando del Napoli nel giro in andato, ho detto che sì, aveva avuto un ottimo impatto, ma forse era un giocatore un po' da high-rise field, nel senso che pur essendo molto forte, diciamo la sua capacità di recuperare con interventi e teco scivolati, molto gasanti, poteva un po' nascondere quelle che sono le sue carenze. Cioè, l'ha detto anche Marco, a volte è un po' troppo irruento, può sghezzare questa cosa, però comunque è un'irruenza che ci sta, ci stava soprattutto nel gioco del Napoli, che aveva decisamente bisogno di centrale in grado di andare subito in regressione e tenere la squadra corta e compatta. Quindi secondo me questi due sono stati i leader delle rispettive difese e come picchi hanno avuto qualcosa in più rispetto al centrale del Lazio, che comunque ha fatto una signora stagione. Beh allora, io insomma sono d'accordo con voi, i migliori tre sono stati questi, Kim, Smalling e Romagnoli, ho fatto un po' l'opposto rispetto a voi, io ho premiato i due centrali delle romane, quindi alla fine tra tutti e tre abbiamo coperto le possibili combinazioni e non ho scelto Kim perché si ha fatto bene, però secondo me è stata un pochino sopravvalutata la sua stagione, ecco qualche errore gliel'ho visto fare, mentre gli altri due secondo me hanno fatto una stagione un pochino più solida, però ecco si parla davvero di cose minime. Su Smalling aggiungo il fatto che è stato molto importante per quanto riguarda il cross su pali inattiva a favore. Ha segnato tre gol, pensavo che ne facesse un po' di più perché era partita bomba, però poi ecco, anche la Roma a livello di creazione, di occasioni di reti su cross dalla corner e punizione in diretta è un po' calata negli ultimi mesi, infatti l'ultimo gol l'ha segnato a ottobre, quindi è un bel po' che l'hanno segnato, però è stato importante anche questo aspetto e per quanto riguarda comunque la difesa sui cross, su azione, è stato davvero impressionante perché ha fatto una quantità di chiusure veramente impressionante. Su Romagnoli ha detto tutto Marco, quindi non sto ad aggiungere altro. Veniamo al terzino sinistro che è stato un po' l'opposto rispetto al terzino destro dove insomma Di Lorenzo ha emerso senza particolari difficoltà e invece qua secondo me ci sono tanti nomi che hanno fatto una buona barra ottima stagione. Mario Rui, Udoge, Carlos Augusto, Di Marco, nessuno di noi ha giocato con la difesa a tre quindi magari Kostic non è stato preso in considerazione, però se avessimo avuto un quinto sicuramente si poteva tenere in mente anche lui. Insomma, chi avete scelto? Io ho scelto un nome che può essere una sorpresa e secondo me ha avuto veramente poca copertura mediatrica rispetto all'ottima stagione in duale che ha fatto. Paga un po' anche il fatto di giocare in una piccola e nella sua squadra c'è stato un giocatore ben più impattante a livello visivo. Sto parlando di Fabiano Parisi che quest'anno diciamo la prima da titolare ha fatto veramente un signor signor campionato secondo me, un giocatore su cui avevo già un discreto hype l'anno scorso è venuto fuori nella seconda parte di stagione perché purtroppo nella prima ha avuto problemi fisici che l'hanno un po' rallentato. Quest'anno nell'Empoli di Zanetti una squadra che ha avuto delle carenze offensive nell'ultimo terzo però una squadra che comunque come tutti i sistemi che giocano con la difesa a quattro nell'Empoli col 4-3-1-2 poggia molto sui terzini e lui è stato fondamentale per lo sviluppo e la progressione del gioco lui è un bel terzino veramente un bel terzino secondo me è una versione un po' discount lo chiamo di Tower Hernandez perché ha queste situazioni dove riceve palla sulla fascia e poi parte in progressione interna e questo è qualcosa che secondo me sempre i più terzini ormai devono saper fare rompere le linee esterne saper giocare dentro e poi permettere al gioco di tornare a svilupparsi in zone centrali lui da questo punto di vista sicuramente è un terzino molto propositivo bravo a spingere bravo a sovrapporsi bravo a saltare l'uomo anche difensivamente pur essendo piccolino se la cava abbastanza bene in uno contro uno mi ha impressionato in termini di rettività può certo migliorare ecco magari nel tempismo però sicuramente è una stagione di alto livello secondo me e spero penso che comunque se continuerà così tempo uno o due anni finirà nel radar di una big nel nostro campionato anche perché ci sono diverse big che avrebbero chiaramente bisogno di terzini mancini ogni riferimento alla Lazio è puramente casuale io sono stato molto combattuto per questa posizione ammetto che fino all'ultimo avevo inserito Carlos Augusto poi all'ultimo ho deciso dai Marco non devi farti condizionare troppo dai tuoi bias metti Di Marco anche se non ti piace e quindi alla fine ho voluto premere Federico Di Marco che ripeto non è un giocatore che mi fa impazzire soprattutto da quinto penso che sia più un problema che altro per una squadra di livello così alto quindi giocatevi la doppietta finale di Champions dopo questo sicuramente Di Marco va premiato perché comunque a livello di numeri è stato molto importante per l'Inter anche costante nella capacità di creare buoni presupposti su quel lato ha un po' coperto alcuni come dire alcuni limiti difensivi che aveva evidenziato all'inizio campionato quando magari era più coinvolto dietro penso la partita con la Lazio l'hanno data in cui si era totalmente dimenticato Felipe Anderson su un pallone di Savic però sì alla fine ci sta comunque i suoi gol li ha fatti i suoi assist li ha fatti è sempre stato importante perché l'Inter sviluppava molto a sinistra anche perché a destra Dunfri è più un incursore che un costruttore quindi alla fine è stato molto importante per Inzaghi do un numero su di Marco che rende benissimo l'idea di quello che dicevi e cioè che è terzo per XG assistiti in media ogni 90 minuti secondo il modello di Opta considerando solo i giocatori che hanno giocato che prima dell'ultima giornata avevano giocato almeno la metà degli ultimi minuti un'altra critica invece che muova di Marco è che non è possibile che un giocatore di calcio professionista di Serie A non riesca mai a concludere una partita perché già il 55esimo 60esimo non ha più fiato io mi chiedo come cazzo sia possibile che vabbè però comunque il giocatore è importantissimo nell'Inter e io anche io avevo il tuo dubbio tra Di Marco e Carlos Augusto però ho scelto il quinto del Monza che è stato una delle più grandi sorprese di questo campionato un giocatore importantissimo nel gioco di di palladino ma che stava facendo bene anche all'inizio con Stroppa era uno dei pochi a salvarsi in quelle primissime giornate in cui il Monza faceva davvero fatica a chiudere con 6 gol e 5 assist che sono un bottino molto molto importante non ho selezionato invece Mario Lui perché nella seconda parte di stagione un po' per scelta e soprattutto per i problemi fisici ha giocato davvero poco però anche lui in maniera non troppo diversa da Di Lorenzo è stato molto importante nel gioco del Napoli forse un po' meno costruttore un po' più rifinitore rispetto all'italiano però ecco anche lui merita sicuramente di essere citato Mario De Bruyne esatto Carlo Augusto è una bella chiamata infatti ci avevo riflettuto comunque però poi ho voluto considerare anche altri giocatori di cui parleremo dopo allora veniamo al centrocampo e veniamo alla prima lock secondo me secondo voi Stanislav Lovotka una lock sì assolutamente in Serie A non è d'accordo no infatti non è d'accordo chi ha premiato Barella sì c'erano Barella Milinkovic e Rabiot come selezionabili beh senza senza senso per carità Barella grandissima stagione però soprattutto in Champions un po' meno in Serie A o quanto meno non da essere il migliore ecco magari lo metti nei primi 6-7 ci può stare ma non il primo neanche a podio ecco comunque basta polemiche e allora vi chiedo che avete messo al suo fianco io ho messo Ceranoglu come interno diciamo alla fine questa è una coppia a due perché secondo me è stato il mio centrodampista dell'Inter uno dei pochi comunque una stagione abbastanza alternante ma alla fine è chiuso in crescente da parte di Nelazzurri è stato una piacevole rivelazione in uno slot per lui nuovo cioè quello di vertice basso l'anno scorso avevamo ampiamente discusso la difficoltà dei Nelazzurri a sostituire Brozvic e quanto l'assenza del croato pesasse nelle due fasi per il gioco Nelazzurro invece quest'anno Inzaghi ha tirato fuori l'asso della manica il turco si è calato davvero con una grande naturalezza in quel ruolo c'è una discussione ogni tanto delle discussioni nell'Inter Twitter su c'è un po' il dualismo tra Brozvic e Ciananogo diciamo che sono sicuramente dei registri diversi a livello di interpretazione con Brozvic hai un po' più di controllo secondo me anche più qualità nel manipolare il gioco il pressing avversario con Ciananogo invece hai comunque un giocatore che è più verticale nella distribuzione magari un po' più semplice nel gioco corto però comunque ha la capacità di andare diretto di andare più sul lungo è molto reattivo una cosa che mi ha sorpreso molto poi credo abbia anche uno stile difensivo una capacità di accorciare in zona palla davvero davvero impressionante perché comunque parliamo di un giocatore che fino a dieci mesi fa era un trequartista mezz'alla trequartista diciamo un giocatore che in regressione ha dato più equilibrio all'Inter è molto molto bravo nel tempo scivolato forse anche un po' sopravvalutato esteticamente in questo cioè fare degli interventi che gasano molto i tifosi però sicuramente in termini di contributo a 360 Ciananogo ha fatto una segnale stagione speravo facessi meglio nelle palle inattive e non lo dico per questioni fantacalcistiche per il resto non lo dici per quello per il resto per il resto veramente è stagione top secondo me Marco allora qua ho avuto moltissimi dubbi però devo essere sincero a Ciananogo non c'ho più pensato è una cosa mia a me non piace molto Ciananogo in quella posizione penso di essere uno dei pochi a dirlo quindi sicuramente sbaglio perché evidentemente se lo dice anche Charlie vuol dire che i motivi ci sono per apprezzarlo lì però vabbè non mi dilungo su Ciala io ero in dubbio tra Milinkovic-Savic Rabiot Barella Anghi Sapi per la prima parte di stagione che per la seconda alla fine ho voluto premiare Milinkovic-Savic pur consapevole del fatto che non abbia fatto una stagione veramente di alto livello molto influenzata dall'ultimo bottino gol più acid che dovrebbe essere 17 9 più 8 se non ricordo male cioè parato solamente ha fatto una stagione peggiore di quella scorsa pur avendo fatto molti meno gol nella stagione scorsa però a mio avviso non c'è stato un centrocampista che si è distinto più degli altri c'erano tanti nomi in ballo e alla fine mi servono tutti nomi che per un motivo o per un altro si sono contraddistinti più per gol più assist che per effettive prestazioni quindi se devo scegliere sulla base di quel criterio voto Savic che è quello che ne ha fatto di più ed è anche quello più forte secondo me che ha dimostrato di essere più forte però ripeto poteva starci Rabiot poteva starci Barella fino a un certo punto poteva starci anche sa per la prima parte di stagione però Savic secondo me ci può stare pur non avendo fatto una grandissima stagione anzi forse è meglio Luis Alberto nella seconda parte soprattutto eh sì ci sono un po' invertiti perché nella prima Milinkovic aveva toccato dei picchi secondo me della madonna poi però ha avuto un calo abbastanza lungo si è un po' ripreso in queste ultime settimane però ecco non è stato straordinario ecco non ha avuto quella continuità che io mi sarei aspettato dopo aver visto le sue prime 10-12 partite comunque io Milinkovic l'ho messo non l'ho messo al fianco di Lobotka ma l'ho messo in quel ruolo ibrido di mezzala trequartista nel mio 4-2-2-2 al fianco di Lobotka ho premiato Rabiot che ha fatto la sua miglior stagione in Italia forse la sua miglior stagione in carriera Allegri ci ha insistito tanto ha ricevuto tante critiche però almeno in questo caso ci ha avuto ragione perché Rabiot ha giocato un bel campionato soprattutto nella fase centrale sempre 1-0 lui era stato determinante un giocatore che ha segnato 8 reti che è un bottino rilevante per un centrocampista e ha fatto varie ottime prove nei big match sia all'andata che al ritorno con l'Inter all'andata segnando anche nella gara di andata con la Lazio insomma un giocatore che difensivamente è stato molto utile per recuperare palla nella propria metà campo e poi per dare la transizione positive o con le sue conduzioni o con magari lo scarico verso Costic o verso un altro giocatore e poi accompagnare l'azione fino all'area di rigore un giocatore forte nei duelli aerei cosa che non era sempre stata perché pur essendo abbastanza alto non era un giocatore così bravo in questo aspetto insomma c'è stata una crescita io fossi la Juve e fossi qualunque altro big club non gli darei un contratto troppo oneroso nella prossima stagione perché questa stagione di Rabiot ricollegandoci all'NBA puzza tanto di contract tier che per chi non seguisse l'NBA contract tier è quando un giocatore va in scadenza di contratto magari nelle stagioni precedenti non aveva fatto così bene quindi ha tanto bisogno di giocare bene per poi ricevere un contratto oneroso in estate magari anche piuttosto lungo e allora dà quel quid in più nell'ultima stagione per appunto ricevere poi un bel contratto ecco a me questa stagione di Rabiot puzza tanto di contract tier e penso che dalla prossima indipendente da dove giocherà il suo rendimento calerà però felice ovviamente di sbagliarmi altri nomi che cito oltre a quelli che avete fatto voi sono quello di Hulmand che davanti alla difesa nel 4-3-3 di Baroni ha fatto molto bene soprattutto in fase di non possesso palla Ben Nasser e Coopminers hanno giocato una stagione positiva Ben Nasser era partito benissimo poi però è sicuramente calato Coopminers anche lui era partito alla grande poi è calato poi ieri sera ha fatto una tripletta che immagino abbia fatto vincere e perdere tanti fantacalci in giro per l'Italia e poi un altro nome che ho su cui ho pensato davvero tanto se metterlo o meno al posto di Milinkovic è quello di Frattesi che forse a livello di continuità tra le mezzali è stato più continuo perché comunque ha giocato una stagione molto solida anche quando Sassuolo era in difficoltà lui era sempre uno tra i migliori ha segnato sette reti ha una media di XG senza rigori in media ogni 90 minuti di 0,24 che è un numero molto molto alto superiore a diversi attaccanti insomma un giocatore molto molto bravo ad inserirsi ad arrivare in area di rigore vedremo se quest'estate andrà in una big nel caso io penso che possa incrementare ancora questo bottino se si trova in una squadra con ancora più qualità attorno a lui per servirlo con i cross e con i filtranti e poi è un giocatore che a livello di lavoro in fase di non possesso palla pur non essendo sempre magari attento per quanto riguarda i posizionamenti quando va a contrasto quando va nei duelli è un giocatore molto bravo lasciami aggiungere che su Rabiot so che adesso scatenerò l'inno di tanti diventini ma secondo me sia un po' sopravvalutata questa cosa della sua finalizzazione cioè il fatto che Rabiot di punto in bianco sia diventato cosa? Secondo me il migliore il mercatore stagionale della Juve alla fine i suoi gol la maggior parte dei suoi gol arrivano su situazioni di pallone attiva che sono stati sicuramente il pezzo forte della casa della Juve non stiamo parlando di gol azioni su incursioni cioè voglio dire la replicabilità di questa stagione secondo me è molto è molto in dubbia quindi anche lì collegandomi a quello che dicevi sul rinnovo eventuale rinnovo contrattuale bisognerebbe valutare questo aspetto poi è chiaro che comunque è un giocatore che alla fine a livello fisico atletico ti dà tanto è ancora nel premio della carriera ci può stare sono valutazioni che per fortuna io non devo fare quindi vedremo un po' cosa succederà altri due nomi che metto comunque due tra garini sotto due o tre nomi che si possono velocemente citare per il centrocampo uno è Rovella secondo me che nel Monza di Perpaladino si è consolidato come uno dei migliori giovani nel nostro campionato poi anche due rivelazioni uno no però Nico Dominguez ma soprattutto Luis Ferguson che con l'arrivo di Tiago Motta secondo me hanno fatto uno step importante a livello di prestazioni e sono stati centrali nella fase centrale soprattutto in cui il Bologna ha trovato continuità di risultati e per un po' è stato anche in lotta per i piazzamenti europei poi c'è anche Ricci chiaramente nel Torino di cui parlavamo qualche giorno fa veniamo a diciamo le ali come ho detto prima io nel ruolo di trequartista di destra ho messo Vininkovic Savic quindi rimangono soltanto da dire la vostra ho fatto veramente tanta fatica per me vale un po' il discorso che facevamo sui terzini nel senso che a destra poca roba a sinistra tantissima roba sia tra i terzini che tra gli esterni alti quindi la sinistra riparta dalla serie A questo non mi sento di dirlo volevo mettere Dibala però mi sembrava tatticamente improponibile cioè un 4-4-2 con Dibala esterno-destro è obiettivamente improponibile quindi ho pensato a ho pensato a Berardi che alla fine i suoi numeri li mette su sempre ho pensato a Ciurria che ha fatto molto bene e francamente non lo conoscevo ho pensato a Candreva però alla fine ho voluto premiare Riccardo Orsolini del Bologna che direi che ha fatto la migliore stagione in carriera anche perché le aspettative erano molto più basse di tutti gli anni precedenti quindi non so ci sarà una correlazione credo che Orsolini sia stato per il Bologna l'acceleratore di gioco cioè il gioco di Bologna del Bologna è stato molto interessante molto fluido tanti cambi di posizione è difficile da leggere per gli avversari però poi ti serve sempre nell'ultimo nella seconda metà campo nell'ultimo terzo un giocatore che sappia strappare palla al piede e Orsolini è stato quel giocatore quel motorino che portava il Bologna da una parte del campo all'altra poi i gol li ha fatti 11 mi pare 8 su azione comunque capocannoniere della squadra quindi per me un 4-4-2 con Orsolini a destra quest'anno ci sta ci sta la grande io invece ho premiato Churria perché secondo me in un Monza dove alla fine gli attaccanti comunque alcuni attaccanti penso soprattutto a Caprari hanno un po' dell'uso magari rispetto alle aspettative lui e Carlos Augusto di fatto sono stati gli attaccanti i veri attaccanti della squadra di palladino mi verrebbe da fare un paragone un contesto un po' diverso ma un'analogia con Gosens e Attebor qualche anno fa nell'Atalanta insomma l'importanza di questi quinti il Monza con questo centrocampo molto fluido molto molto tecnico tra l'altro secondo me è una squadra con una base tecnica di signor livello per essere una neopromossa certo ha delle risorse importanti a livello economico però ha restito una squadra che insomma tra Pessina Sensi Rovella Colpani tanta tanta roba secondo me per una media di Serie A e Churria è stata una piacevole sorpresa perché comunque parliamo di un giocatore che alla fine prima di quest'anno non aveva mai fatto il quinto cioè era una seconda punta un tre quarti a volte esterno quest'anno infatti ci sono state le partite dove ha giocato sotto punta di fianco a Caprari detto magari a Dani Muoto o a Petagna però è stato importante perché è un giocatore che comunque oltre a finalizzare bene oltre a contribuire anche in fase di finitura credo sia sempre stato o abbia dimostrato quest'anno di poter creare qualcosa un po' dal nulla questo magari è qualcosa che non ci aspettavamo perché è un giocatore un po' sconosciuto però in generale nelle partite del Monza è quasi sempre stato il più pericoloso quello che comunque ti dava l'idea di poter combinare qualcosa nell'ultimo terzo quindi ho voluto premiare la sua stagione in positivo poi certo Marco ha citato Berardi che si potrebbe mettere Filippo Anderson ha giocato bene lo stesso Roussolini insomma quando è arrivato a Tiago Muoto lui è stato quello più migliorato si potrebbe dire forse è uno dei più migliorati in questa stagione sicuramente ha trovato continuità ha trovato spazio cosa che era un po' più difficile all'inizio anche col fatto che il Borogna di Sinisa giocava con la difesa a tre quindi non c'era molto spazio per lui Kandoeva sì questi sono sostanzialmente i nomi Berardi è impressionante come giocando veramente poco perché è stato out per per diverso tempo ha comunque raccimolato un bottino importante 12 gol e 7 assist certo 7 di questi 12 gol sono arrivati su rigore quindi c'è questo piccolo grande asterisco però anche considerando soltanto i 5 gol e i 7 assist sono numeri importanti per un giocatore che ormai dà tante tante stagioni riesce sempre a fare la differenza per il Sassuolo veniamo invece ai giocatori messi come alla sinistra allora io qua spiego subito l'Arcano io ho scelto questo modulo questo 4-2-2-2 per far convivere due giocatori che a parere mio non potevano mettere cioè Cavaraschelia e Raffaele Au che sono state credo le due migliori ali sinistre del nostro campionato anche Zaccani ha fatto benissimo però lo metto a livello di impatto a livello di dominanza perché questi due giocatori ragazzi possono vincere le partite da soli ecco è un gradino sotto se non due gradini sotto Guara ha avuto come abbiamo già detto varie volte l'impatto di un Meteorite sulla Serie A è terzo per Progressive Carries secondo Opta è quinto per XG Assistiti Leao invece è secondo per Progressive Carries e sesto per XG Assistiti insomma sono due giocatori che hanno anche numeri molto molto simili molto molto vicini secondo me la stagione di Leao per via del Milan che non ha fatto bene è passata un po' un po' troppo in sordina però ragazzi ha giocato un campionato clamoroso 15 gol 8 assist per un'ala sono davvero tanta roba è un giocatore che ti può risolvere le gare da solo e quindi ho scelto di mettere loro due Kvara più largo a sinistra e Leao da seconda punta tanto Leao può giocare anche lì visto che Pioli quando è passato a 3 lo ha messo lì al fianco di Giroud e poi anche quando ha giocato a 4 comunque Leao è un giocatore a cui ogni tanto Pioli chiedeva di stringere secondo me gioca nettamente meglio quando parte ed è filato però ha giocato anche lì poi invece chi avete scelto tra Kvara Leao e ci metto anche Zaccani qualora uno di voi due l'avesse premiato inizialmente ero indeciso se mettere due esterni sicuramente Kvara e poi le fatti ho messo Kvara andava messo anche se nei giorni di ritorno chiaramente hanno iniziato a raddoppiarlo e triplicarlo manco parlassimo di Prime Messi però comunque fa capire quanto questo giocatore sia stato ovviamente impattante nel nostro campionato una piacevolissima sorpresa non tanto per quello che ha fatto nel dribbling nella rifinitura ma proprio nella finizzazione nella qualità balistica cioè un giocatore che nella preview accennavamo in Russia non aveva finora dimostrato fatto vedere di poter essere un grande finizzatore non tanto perché non sapesse calciare ma proprio perché tirava poco segnava pochissimo invece quest'anno nel Napoli ha avuto un impatto davvero cromoroso non ho messo Leao che si ha avuto prestazioni dominanti però i buchi che ha fatto cioè la fase grigia del Milan lui proprio mentalmente non c'è stato ha fatto diverse prestazioni insufficienti questo mi ha un po' condizionato si potrebbe dire la voltazione poi anche Zaccagni comunque ha fatto una signora stagione certo con meno picchi rispetto a questi due ma sicuramente continua molto continuo nell'arco dell'anno ci metto anche anche se dietro a questi l'Oriente nel Sassuolo che con l'assenza di Berardi comunque si è trascinato l'attacco nero-verde sulle spalle è un giocatore che sa fare tante cose sa portare palla sa tirare sa rifinire è ovviamente un giocatore da seguire nel nostro campionato Charlie mi ha rubato la menzione all'Oriente purtroppo se l'è presa a lui non puoi andare neanche a a picchiarlo perché visto i muscoli non rieschi di prenderli giusto allora sulle Auk Vara ho fatto esattamente i ragionamenti che ha fatto Charlie ci stavano entrambi Vara ha fatto un po' più di fatica nella seconda parte di stagione ma secondo me anche per una questione di motivazioni cioè il Napoli il campionato l'ha vinto due mesi e mezzo fa anche se non matematicamente nella prima parte di stagione secondo me è stato più costante cioè Leao ha avuto dei momenti di up molto up e di down molto down soprattutto nel periodo grigio del Milan col passaggio alla difesa a 3 o a 5 ribadisco quello che hai detto tu Gab a me non piace troppo in posizione così stretta credo che renda di più quando può ricevere in ampiezza e giocarsi uno contro uno anche perché quando gioca più stretto più le richiede gli attaccare la profondità e il fatto che un giocatore sia veloce non vuol dire che sappia che ha la profondità cioè è una questione di capacità di movimenti di letture ha sicuramente le caratteristiche atletiche per poter imparare però a me piace più sull'esterno quindi ho voluto votare Kvara perché per me è stato comunque più costante alla fine posso però dire a difesa di Leao che l'attacco del Milan pesa quasi interamente su di lui mentre l'attacco del Napoli non pesa interamente su Kvara cioè Leao ha un peso specifico nel Milan che è nettamente superiore a quello che c'è a Kvara nel Napoli in cui comunque c'è un gioco più organizzato più collaudato e poi c'è Ozyman che insomma ve lo chiedo già ora secondo me è la seconda lock e quindi vi chiedo se siete d'accordo su questo sì sì ok ok e allora visto che la mia formazione è completa dato che ho messo Leao e Ozyman là davanti chiedo a voi chi avete messo al fianco del nigeriano e perché allora per completare questo 4-4-2 la mia scelta è andata su una seconda punta ho escluso Lautaro perché comunque nonostante soprattutto in questo 2023 diciamo queste ultime fasi sia un po' in transagonistica non è stato continuo insomma ha avuto chi ha seguito insomma il campionato ha visto che ha avuto i suoi soliti momenti di buio un po' ancora incostante però in termini di leadership ho visto già dei miglioramenti e spero che l'anno prossimo possa trovare quella continuità nell'arco di 30 35 38 partite da top player quale può essere quale può sperare essere però comunque a livello realizzativo sicuramente è un bel campionato ho premiato Di Bala che ecco magari è rientrato a pelo a livello di minutaggio però in maniera abbastanza simile a quello che diceva ora Gab su Leao a livello offensivo il peso che ha nella Roma che ha avuto quest'anno la Roma non è da sottovalutare un giocatore che soprattutto contro difese schierate ha dato quella qualità quell'inventiva quella brillantezza quella luce un po' che a questa squadra è mancata insomma al netto di un'ottima fase difensiva certo la fase offensiva è stata piuttosto deludente poi anche con le stagioni individualmente deludenti di Pellegrini soprattutto e di Termi Ebram di Bala se l'è cavata molto bene certo speravo trovasse un po' di continuità fisica anche se Lumele Romano comunque ha giocato tanto e ha anche fatto fatto bene e niente campionato di buon buon livello nomi che si possono anche citare penso a Bule Dia della Sardinitana che ha avuto un'efficienza monstra nel nostro campionato anche in Zola che insomma se lo Spezia si va a giocare lo spareggio è quasi solo per merito suo perché senza senza di lui lo Spezia sarebbe già laggiù con con Sampe e Cremonese Marco tu che hai scelto? Allora io al fianco di Osimè non ho inserito Gianluca Lappadula ho voluto premiare Lautaro che si ha sempre quei momenti in cui non la mette mai e quando non la mette mai poi fa fatica anche in generale a giocare però secondo me ha fatto una grandissima stagione cioè anche a livello di expected goal sarà tipo la prima volta che overperforma con un certo distacco ma al di là della parte realizzativa secondo me Lautaro ha avuto una crescita esponenziale dal punto di vista del gioco la capacità di giocare la porta di legare il gioco di servire i compagni mi è rimasta molto impressa l'azione della Sampdoria quella che ha portato per il gol di Cialano con l'annullato mette una palla stratosferica e per me non è una palla strana per Lautaro cioè sta diventando una palla che sa dare con una certa continuità e quindi per me è nettamente il migliore attaccante dopo Zimè anche perché anche io ho pensato a Dia però molto sotto ci poteva stare Di Bala nella mia testa volevo metterlo esterno destro quindi non c'è neanche pensato a metterlo più avanti però penso che avrei premiato comunque Lautaro è meglio esterno destro che centrocampista come faceva Allegri l'anno scorso in cui si doveva abbassare con Guardiola farebbe la mezzala con Guardiola farebbe la mezzala mezzo spazio destro qualità quindi rispetto per Allegri che ci è arrivato prima di Guardiola in realtà chi era la tua quarta lock perché hai detto di Lorenzo lo vodka o Zimè chi era la tua quarta la mia era Kim ah Kim ok ok e dai per chi ci ascolta dico ovviamente che se volete mettere la vostra top 11 nei commenti su YouTube potete farlo l'avete già fatto per il girone di andata potete farlo anche su Spotify perché da qualche settimana Spotify permette di commentare i podcast e le puntate dei podcast potete ovviamente farlo poi anche su Facebook Twitter Instagram insomma se volete fare la vostra siete ovviamente liberissimi di farlo e poi naturalmente vi ricordo già che ci sono anche di mettere pollicione al video se siete su YouTube e di mettere le 5 stelline al podcast se siete su Spotify o su Apple Podcast e proprio a proposito di podcast prima di cambiare argomento vi chiederei di rileggere la vostra formazione perché naturalmente dopo questi circa 50 minuti è normale che chi ascolta senza avere le nostre formazioni davanti nello schermo si potrebbe essere un po' perso allora 4-4-2 provvedere in porta da destra a sinistra di Lorenzo Smalling Kim e Parisi a centrocampo Ciuria Ciaranoglu Robot e Kfarskeria in attacco di Balausiman Anch'io 4-4-2 in porta Provedel da destra a sinistra Di Lorenzo Kim Romagnoli Di Marco esterno a destra Orsolini esterno a sinistra Kfara in mediana Lobot Kamilinkovic le due punte sono Osimel e Lautaro allenatore Ventura ci sta conte però del periodo di Bari io 4-2-2-2 stile Lipsia Vicario in porta Di Lorenzo Smolling Romagnoli Carlos Augusto in difesa Lobotka e Rabiot in mediana Milinkovic Savic ad occupare il mezzo spazio destro Guarazkeli a dare più ampiezza sulla sinistra Leao partire a seconda punta ma ovviamente con la tendenza anche lui a defilarsi e poi naturalmente Osimel a fare il numero 9 Cambiamo tema e passiamo brevemente a parlare della finale di FA Cup che si è giocata sabato pomeriggio vinta per 2-1 dal Manchester City contro il Manchester United e decisa da una doppietta di Kyle Gundogan che ha segnato due gol da fuori area il secondo carino ma non straordinario il primo invece dopo pochissimi secondi uno dei gol più belli della sua carriera e lui di gol belli in carriera sicuramente ne ha fatti quali spunti vi ha lasciato questa partita e insomma ha meritato il City di vincere allora è stata una partita molto interessante avevo molta attesa perché ero curioso di vedere come si sarebbe comportato lo United in prima pressione perché l'ultima volta che ha sfidato il City era un City completamente diverso giocava con un'impostazione a 4 con i terzini molto larghi c'era Cancelo era una storia completamente diversa è stato interessante quindi vedere come Tenaga ha cercato di replicare alla costruzione 3 più 2 che ormai conosciamo del City con Stonsi Mediana a fianco di Rodri con una pressione portata da 4 uomini ossia Sancho Rashford Bruno Fernandes e Eriksen che di fatto si facevano la spola tra i giocatori del City nel senso che veniva sempre lasciato libero il bracetto dalla parte opposta e si cercava di tenere il 2 contro 2 sui mediani in certo senso è stata una soluzione interessante non è la prima volta che la vediamo lo United aveva avuto la fortuna di aver giocato contro il Brighton nella semifinale quindi era già un po' preparato a questo tipo di costruzione molto elaborata molto interessante poi la copertura dei mezzi spazi perché Fred marcava uomo De Bruyne mentre Casemiro marcava uomo Gundogan di fatto Tenaga ha replicato in questo senso il piano di Ancelotti in Champions League quindi una marcatura uomo molto chiara con tantissimo spazio poi nei mezzi spazi perché i due esterni del City tengono l'ampiezza quindi sia Wan-Bissaka da una parte che Shaw dall'altra sono stati costretti a stare molto larghi quindi c'è lo spazio tra i due centrali tra centrale e terzino scusate con i due centrali attaccati ad Holland penso che il City abbia meritato la vittoria devo essere sincero dopo il gol dopo 14 secondi mi aspettavo una partita molto diversa lo United è stato un po' fortunato a tornare in partita con questo calcio di rigore che ribadisco la mia crociata non ha alcun senso che è un traversone un cross che non porterà nulla con un fallo di mano casola e ti porti a un'occasione da 0.76 expected goal questa è una cosa che mi rimarrà quindi è riuscito ad aprirla così con il rigore di Bruno Fernandes nella ripresa il gol di Gundogan che ha portato in vantaggio il City ed è stata pure una partita un po' strana nell'ultima mezz'ora perché i City sono andati un po' in deficit dal punto di vista fisico-atletico c'è un po' di fatica a correre quindi è stato un po' costretto a fare una partita più posizionale però non il City dell'anno scorso questo City sa difendere di posizione l'ha fatto più volte ha gli uomini per farlo perché con quattro difensori centrali chiaramente ha anche un po' di struttura lo United poteva comunque fare gol perché ha preso un'attraverso anche se in maniera un po' rocambolesca ha fatto molto male quando è entrato Garnaccio che è un giocatore molto interessante che riesce a mettere in difficoltà Walker non lo mette in difficoltà neanche Vinicius ma Garnaccio lo mette in difficoltà quindi complessivamente penso che abbia meritato il City però la United ha fatto la partita che doveva fare è stato un 2-1 tutto sommato che ci stava a proposito di Manchester City e di finali che giocherà il Manchester City sabato sera a Istanbul ci sarà la finale di Champions League tra la squadra di Guardiola e l'Inter di Simone Inzaghi tra l'altro questa sarà anche la prima sfida ufficiale tra questi due club che non si sono mai affrontati nella loro storia che rende secondo me la partita ancora più interessante per quanto riguarda l'Inter dovrebbe recuperare Mkhitaryan anche se non è detto che poi riesca a recuperare talmente bene da venire schierato titolare comunque immagino che Inzaghi deciderà l'ultimo chi lasciar fuori tra Brozovic Cialanoglu Barella e appunto Miki e per quanto riguarda il City Walker si è infortunato nella gara di sabato quindi vedremo se riuscirà a recuperare oppure no io dico una cosa poi lascio andare voi secondo me se l'Inter vuol vincere questa partita Inzaghi deve giocare dall'inizio con Lautaro e Lukaku e mettere Dzeko in panchina perché vedo davvero difficile che l'Inter possa essere pericolosa con continuità schierando Dzeko e Lautaro perché secondo me all'Inter serve là davanti avere un giocatore bravo nei duelli fisici nei duelli aerei e poi soprattutto bravo in conduzione bravo ad andare in campo aperto cosa che Dzeko non è cioè se c'è Dzeko là davanti l'Inter deve attaccare in transizione in maniera più elaborata con più passaggi più scambi e farlo contro una squadra come il City io la vedo davvero difficile invece con Lukaku puoi giocare in maniera un po' più diretta e affidarti un po' più a lui tra l'altro Lukaku che appunto nell'ultimo mese mese e mezzo è tornato a a fare a fare le fiamme cosa che invece per tutto il resto della stagione non era riuscito a fare quindi io fossi inzaghi contrariamente a a scegliere la formazione con Lautaro e Dzeko che ha schierato sempre in questa fase di eliminazione diretta della Champions andrei con Lautaro e il Belga anch'io andrei con Lautaro e Lukaku credo anche sia una partnership migliore e perché provando a immaginare un po' le dinamiche tattiche che l'Inter potrebbe sfruttare credo che è una cosa intanto Inzaghi deve preparare ma sono sicuro lo farà bene la costruzione e l'uscita da dietro perché quando è una squadra che ti pressa come il City è importante gestire bene la palla l'Inter è una squadra che da questo punto di vista sicuramente cura bene l'uscita a palla e non ha mai affrontato chiaramente un avversario della qualità della bravura del City e credo saranno fondamentali i quinti nel posizionamento iniziale e come Ronaldo riuscirà a cercarli con questi lanci perché provando un po' a mappare le due squadre cioè la fase di non possesso del City la fase di possesso dell'Inter dovrebbero essere i terzini del City a uscire su immagino Dumarco e Dumfries quindi dietro verrebbe a crearsi una situazione di due contro due io non so quanto il City sia risposto ad accettare queste situazioni qui cioè una squadra che deve accettare tante fasi con attaccanti dell'Inter che si muovono molto vengono incontro si allargano per esempio Stones secondo me potrebbe soffrire questo con Lautaro magari Ruben Diaz gestire un po' di più Dukaku in profondità però Stones lo vedo un po' più in difficoltà nel dover seguire tanto i movimenti incontro di Lautaro immagino Rodini rimane anche un po' più basso a protezione della difesa quindi secondo me se l'Inter riuscirà a far uscire i terzini del City e attaccare poi lo spazio alle loro spalle magari con gli attaccanti magari con un movimento a uscire delle mezzali penso a Barella nel caso Mkhitaryan quando giocassi di trattolare poteva avere spazio per poi andare sul fondo e cercare il cross o creare una situazione pericolosa di contro però proprio i quinti anzi lo spazio tra i quinti dell'Inter e i centrali dell'Inter mi preoccupano abbastanza in fase di non possesso soprattutto sul lato del sinistro dell'Inter perché credo che De Bruyne possa veramente fare il disastro tra Bastoni e Di Marco con i suoi movimenti classici ad attaccare lo spazio e poi eventuali cross Bassi a rimorchio che è un'altra situazione che secondo me l'Inter soffre nel difendere cioè quando deve difendere palle alte cross davanti al portiere lo fa bene quando invece deve gestire cross a rimorchio la linea non è sempre messa bene non sempre i centrocampisti ripiegano bene e quindi anche un incursore come Gundogan potrebbe avere i tempi per trovarla stoccata è un'altra cosa un altro mismatch a sfavore dell'Inter secondo me è quello tra Acerbi e Oland perché Acerbi si ha fatto benissimo finora in questa Champions perché se l'è cavata la grande contro Taremi se l'è cavata la grande contro il Benfica se l'è cavata la grande contro il Milan con Giroud però Oland ha un passo diverso rispetto agli altri nove che ha affrontato cioè Oland sui primi due passi Acerbi lo brucia non solo in campo aperto dove comunque dubito che ci saranno tante opportunità per il City perché mi aspetto una gara in cui l'Inter tende a difendersi medio-bassa e quindi si giocherà prevalentemente nella metà campo difensiva dei Nerazzurri però proprio in area di rigore i movimenti di Oland è da vedere se Acerbi riuscirà a seguirli bene sul primo e secondo passo quindi è da tenere d'occhio anche questo c'è tantissimo da dire sto anche preparando il pezzo in questi giorni perché è una sfida molto interessante 25 minuti di lettura più o meno di solito sono abbastanza sintetico quello almeno allora mi sto fermo soprattutto sulla costruzione dell'Inter perché anche secondo me molto dipenderà da quello mi collego a Charlie sono d'accordo per me la chiave sono i quinti dell'Inter in generale le parti esterne dell'Inter perché per come pressa il City in quest'ultimo periodo è riuscito più o meno a soffocare tutti con la prima pressione Grilish e Bernardo Silva partono esterni ma poi tagliano dentro per marcare il difensore centrale e coprire la linea di passaggio alle loro spalle poi se la palla torna al portiere pressano anche il portiere costringono il lancio lungo per me per me l'Inter può sfruttare questa cosa perché ha Onana in porta che è fortissimo anche col piede debole quindi se ci ricordiamo le parole di De Zerbi che ho detto in questi giorni cioè la partita la domini quando riesci a giocare il pallone sul lato in cui la squadra non ti vuole non ti vuole far giocare quindi se l'Inter porta Bernardo Silva sul centrale la passa Onana e Onana di sinistra riesce a servire Di Marco lì c'è tantissimo spazio per l'Inter anche perché i terzini che secondo me saranno a Kanji e anche a prescindere dalle condizioni di Walker tendono a stare molto bassi in realtà in situazione cioè escono con un po' di ritardo sugli esterni avversari proprio perché preferiscono mantenere un po' di controllo dietro quindi se l'Inter riesce a tirare fuori Bernardo Silva e a prenderlo alle spalle poi c'è tanto campo da attaccare di contro secondo me invece sarà più difficile riuscire a creare quei due contro due che l'Inter riesce sempre a creare contro gli avversari soprattutto contro il Milan nella doppia sfida di Champions perché proprio questa difesa a quattro molto stretta permette secondo me di uscire con uno dei terzini sull'esterno ma di tenere stretto l'altro quindi di fatto riesce sempre ad avere un tre contro due secondo me quindi la qualità dovrebbe essere quella di riuscire a portare tanto il ballone da una parte e dall'altra per costringere il City ad essere un po' più alto sia che con Akanji che con Ake e poi creare il due contro due però mi sembra una situazione molto difficile da creare soprattutto se giochi con Dzeko e non con Lukaku ultima cosa secondo me un vantaggio che all'Inter è la difesa a 5 perché da quando il City ha giocato a cambiato modo diciamo non ha mai sfidato una difesa a 5 giusto contro il Bournemouth però vabbè l'avversario è quello che è perché ha diciamo un'uscita chiara su De Bruyne e Gudoga perché sia Darmian da una parte che bastonini dall'altra possono rompere la linea e uscire su giocatori dei mezzi spazi e contemporaneamente giocando a 5 se uno dei braccietti esce l'altro può stringere e può ricreare il 2 contro 1 con Haaland che è stata un po' la chiave che hanno provato tutti quanti contro il City quindi per me ci sono diverse armi che l'Inter ha a disposizione per mettere in difficoltà il City per metterli su un piano che non conoscono bene però chiaramente la qualità è quella che fa la differenza e il City ne ha tantissima in più quindi sono molto 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 curioso per me è una partita meno banale di quanto sembri e per me il primo tempo è il più importante e deve giocare Lukaku proprio perché l'Inter deve cercare di mettere la partita nei binari migliori da subito io credo che la gara si deciderà soprattutto a centrocampo dove ci sono giocatori forti e di qualità da entrambe le parti naturalmente quelli del City sono più forti di quelli dell'Inter però quelli dell'Inter sono stati fondamentali in questo cammino e quindi secondo me sarà importante sia per le poche volte in cui l'Inter proverà magari ad aggredire alta che che non escano troppo fuori posizione che leggano bene le situazioni che non siano troppo irruenti negli interventi perché insomma il Gundogan il De Bruyne anche il Rodri nel caso sono bravi a deludere la pressione individuale quindi dovranno stare attenti a non farsi ammonire presto e poi naturalmente dall'altra parte quando sarà il City a pressare e quando saranno loro a ricevere palla dovranno essere bravi a resistere alla pressione avversaria anche se per quanto riguarda il pressing credo che sarà fondamentale per quanto riguarda la resistenza al pressing sarà fondamentale naturalmente il lavoro di Onana dei centrali dei quinti come dicevate voi e poi naturalmente delle due punte perché quando l'Inter andrà in difficoltà poi Onana o chi per lui lancerà lungo verso Lautaro e Dzeko o Lautaro e Lukaku in ogni caso non ci sono dubbi che il City sia favorito all'Inter serve ovviamente difendere bene posizionalmente servirà credo una gran partita di Onana perché immagino che anche se difendi bene il City in un modo o nell'altro le occasioni te le crea e poi come sempre occhio alle pali inattive perché tutte e due le squadre hanno giocatori bravi sia a crossare che a giocare di testa perché il City ricordiamolo da quando gioca con tutti questi centrali ha più centimetri e fa rigogli affatti così poi c'è anche Voland che è forte anche lui in queste situazioni insomma occhio pure alle pali inattive aggiungo un altro paio di cose veloci poi do le mie sensazioni pronostico in generale tornando al discorso dello sviluppo del gioco credo che se dovesse giocare a Verozovic potremmo anche vedere l'Inter provare a rischiare qualcosa nello sviluppo centrale magari alzando a Cerbi in maniera non troppo dissimile a quello che fa Stones anche se Stones vabbè è diverso perché poi arriva anche a palla al piede sull'attacquati a volte fa l'incursore però credo che a Cerbi potrebbe anche avere un po' più di libertà nello smalcamento un po' come abbiamo visto con la Fentina soprattutto se il City dovesse orientarsi diciamo un po' sull'uomo nel pressing penso soprattutto ai tre riferimenti davanti che immagino saranno Grealish Hollander e Bernardo e poi perché comunque con Brozic magari hai la possibilità come abbiamo visto anche nell'Inter di Conte di allargare i bracetti creare un'uscita nella linea 4 e questo potrebbe anche esesperare poi tutti i duelli in due anni di tutto campo allarghi il campo per il City allarghi soprattutto il campo in mezzo e chiaramente se permetti c'è la nuova globale a Mkhitaryan di strappare può essere pericoloso perché i City cioè Roder e Gundogan sono più bravi a difendere in avanti che a correre indietro quindi l'Inter deve essere brava ad allargare il campo per attaccare e poi chiaramente a non scoprirsi credo anch'io sarà una partita chiaramente in cui l'Inter dovrà per lo più difendere il City arriva a favorito però secondo me arriva anche con tanta pressione perché ha già perso la finale due anni fa si gioca il travel l'Inter alla fine non ha nulla da perdere insomma ha già fatto un mezzo miracolo di arrivare in questa finale la squadra sta bene insomma l'Inter è un avversario anche particolare per il City perché è una squadra italiana cioè italiana perché hanno 3-5-2 proprio anni 90 però è anche flessibile si sa adattare credo che Inzaghi in questa Champions abbia fatto un buon lavoro a livello di flessibilità perché comunque l'Inter ha saputo gestire affrontare squadre diverse con caratteristiche piuttosto diverse come Porto Benfica e lo stesso Milan io voglio sbilanciarmi adesso so che però insultato a vita dai tifosi interisti però secondo me con un po' di fortuna giustamente però secondo me con un po' di fortuna l'Inter potrebbe anche portarla a casa quindi voglio dire che l'Inter vincerà magari non in 90 minuti però in un modo o in un altro potrebbe portarla a casa cari amici interisti scrivetemi pure se poi volete l'indirizzo dove vive Charlie che ve lo do sì è grosso ma se andate in tanti ce la fate sono molto d'accordo con tutto quello che avete detto e comunque per me vince il City 2 a 1 cioè più combattuta di quanto possa sembrare mercoledì mercoledì invece ci sarà un'altra finale europea quella tra Fiorentina e West Ham si giocherà a Praga e secondo me anche in questo caso l'andamento tattico è abbastanza facile da prevedere cioè sarà la Fiorentina a fare il 60 65% di possesso palla e West Ham a difendersi con un baricentro medio-basso compatto in attesa di recuperare palla bassa e poi ripartire come insomma è classico fare per quanto riguarda le squadre di Moies io credo che insomma la chiave di questa partita sarà un po' la solita in tutte le partite della Fiorentina cioè la Fiorentina dovrà essere brava a rifinire e a finalizzare perché o fatica a rifinire perché bombarda di cross e poi però in area di rigore gli attaccanti o le ali o il trequartista che si inserisce faticano a vincere il duello cosa che tra l'altro è possibile contro West Ham perché West Ham ha dei centrali fisici e bravi nei duelli aerei oppure fatica a finalizzare come è successo nel ritorno col Basilea o anche nella finale di Coppa Italia contro l'Inter dove la squadra ha avuto varie chance per segnare e poi l'altra chiave naturalmente sarà le transizioni negative perché la Fiorentina sappiamo come gioca l'italiano non credo proprio che cambierà modo di giocare perché insomma l'italiano è quello lì e gioca così e lo dico in termine positivo perché a me l'italiano piace tanto come allenatore e quindi la Fiorentina pressa alto è una squadra che si sbilancia molto quindi quando West Ham dovrà ripartire la Viola dovrà stare molto molto attenta a queste situazioni Michele Antonio che quasi sicuramente giocherà là davanti è un giocatore forte fisicamente che si muove molto che attacca la profondità e quindi i centrali della Viola dovranno stare attenti su di lui ma soprattutto credo che la squadra dovrà stare attenta alle ali del West Ham che non hanno fatto finora una bella stagione però Bowen è un giocatore pericolosissimo in contropiede soprattutto quando va a palla al piede Ben Ramal è un giocatore che mi piace tantissimo però anche lui è un giocatore pericoloso Cornet dalla panchina quest'anno ha giocato pochissimo però è un giocatore molto veloce e quindi dovesse entrare nella ripresa potrebbe essere pericoloso e poi ci sono giocatori di qualità come Paquetà e Fornans che possono mandare nello spazio o comunque servire questi altri quindi la Fiorentina dovrà stare molto molto attenta alle transizioni e non so Igor finora ha giocato una brutta stagione però forse la sua fisicità rispetto a quella rispetto alle caratteristiche di Martinez Quarta potrebbe essere più utile contro questi avversari soprattutto contro Michele Antonio anch'io metterei Igor nonostante in questo momento sia probabilmente la quarta scelta a livello difensivo credo che la Fiorentina dovrà palleggiare bene preparare bene la fase la fase di regressione da questo punto di vista sarà importante il lavoro di Amrbat a supporto della difesa lato West Ham invece chiaramente mi aspetto Rice e Sucek a fare molto filtro molto schermo davanti alla difesa anche se poi di fatto la Fiorentina è una scuola che costruisce per via esterne vedremo un po' qual sarà il contributo dei terzini che possono essere utili per scardinare il blocco basso della West Ham poi come hai detto te la Fiorentina dovrà essere precisa Nick Ross dovrà anche accompagnare bene Cabral che immagino al 90% sarà titolare in finale perché Cabral contro i centrali come Aguard come Zuma insomma gente molto fisica molto ben piazzata potrebbe essere decisamente un mismatch lato lato sono molto curioso di vedere Michele Antonio perché secondo me è un attaccante che magari è un po' calato rispetto agli ultimi innati del West Ham però comunque è sempre molto capace di fare parto da solo e con un West Ham che non disegnerà certo il gioco lungo il gioco diretto può fare e creare tanto per la squadra londinese sì anche secondo me è una partita dall'andamento piuttosto prevedibile Fiorentina dominerà il pallone e West Ham cercherà soprattutto di giocare di rimessa credo che entrambe le squadre abbiano le armi per farsi male a vicenda la Fiorentina con i suoi riferimenti a uomo ultraaggressivi a volte lascia qualcosa dietro e il West Ham sa punire quando ha campo da attaccare Michael Antonio su tutti allo stesso modo però il West Ham fa un po' di fatica a difendere la zona di rifinitura ai lati di Rice e Sosec e la Fiorentina è molto brava ad occupare con qualità la zona di rifinitura anche con l'ultima novietà di italiano questa costruzione 3 più 1 con un centrale che diventa mediano e permette alle mezzali di alzarsi nei metti spazi quindi per me queste potrebbero essere un po' le chiavi anche perché i centrali del West Ham non sono così tanto a loro agio nel rompere la linea quindi per me la Fiorentina può trovare spazio in quella zona di campo e da lì far male chiaro che se diventa una sfida a vado sul fondo e cross non so quanto potrebbe essere efficace in questa in questa gara qua perché il West Ham di saltatori ne ha tanti penso che sia una partita molto equilibrata credo che la Fiorentina possa vincerla però ci vuole un pochino più di accortezza dietro e riuscire anche a leggere i momenti della partita so che l'italiano ha un modo di giocare la Fiorentina ha un modo di giocare lo abbiamo visto anche nella finale contro l'Inter ma se riesci a passare in vantaggio devi cercare di trovare una via di mezzo questa Fiorentina non sa difendere di posizione quindi non ha senso farlo ma neanche aggredire così tanto se sei in vantaggio in una finale un compromesso bisogna trovarlo anche in questa gara occhio alle palle inattive perché insomma il West Ham è fisico quindi può fare molto male in queste situazioni o perché magari anche la Viola può farlo però sicuramente in questo aspetto il West Ham è messo meglio che la Fiorentina e sono curioso di vedere come giocherà Jack Buonaventura che insomma spero per la Viola che sia in giornata sì perché lì nello stretto può essere quel quid in più quel giocatore che ti dà quell'imprevedibilità che invece magari che so i biraghi nel caso non ti danno perché sai come sai come giocano Buonaventura invece nello stretto si riceve bene tra le linee con la sua agilità può fare mettere in difficoltà un centrocampo come Reis e Socek che sono forti difensivamente però non sono agili quanto lo ha invece Buonaventura nello stretto ripeto perché poi Buonaventura nel lungo non è più quello di 6-7 anni fa come è normale che sia Penso che la Firola comunque abbia qualcosa in più a livello di soluzioni della panchina quindi dico sia leggermente favorita per me è un 55-45 Anche io dai sono fiducioso e dico anche un 55-45 secondo me ce la può fare però insomma i dubbi sono quelli che abbiamo elencato prima la Fiorentina ormai la sappiamo come gioca e insomma i pregi e difetti sono ben definiti come in poche altre squadre sul panorama europeo Dai chiudiamo qui questa puntata lunghissima ma insomma in questo periodo i temi e la carne al fuoco è giustamente tanta saluto e ringrazio Marco Lai ciao Marco Grazie a voi alla prossima E ciao sono Akpa ciao Charlie Ciao ciao a tutti alla prossima Ciao e buone finali a tutti